480 euro per otto giorni in prima fila sotto l'ombrellone. E quanto sborseranno i turisti che sceglieranno i Lidi Balneari di Tropea, che dalle indagini dei Feder Consumatori Calabria si rivela la località turistica con il servizio spiaggia più caro. Cifra che può salire anche a 560 euro, incluso il costo dei 10 euro giornalieri per il parcheggio convenzionato. Dalla prima fila all'ultima intercorre da sempre una cospicua distanza, che in termini economici quest'anno si traduce in aumenti sul costo dei servizi offerti dai 77 stabilimenti balneari monitorati da Feder Consumatori. Lidi che punteggiano le spiagge di 28 comuni delle coste tirreniche e ioniche calabresi. Rispetto a questa proposta massima abbiamo registrato un incremento di ben il 17% sulla precedente nostra indagine del 2022, un aumento che comunque si discosta rispetto alla media nazionale annua del 2024 che è del 3%. Rincariche non rispondono ad alcuna raccia inflazionistica, rimarca la Presidente Iannello, ma non va meglio dalle altre parti. Abbiamo appunto visto e campionato delle offerte un po' per tutte le tasche, anche se c'è da accontentarsi delle ultime file. Dall'indagine emerge anche un altro dato importante. Il 26% di questi stabilimenti dichiara già il tutto esaurito, mentre soltanto il 10% riesce ad offrire dei servizi in prima fila.